Per un uomo con figli che si separa, soprattutto quando i figli sono piccoli, separarsi significa un raddoppio dei costi sostanzialmente. Si va sicuramente da situazioni di aggravio che però è sostenibile a situazioni che talvolta sono da caritas, cioè non ce lo mandiamo a dire. È un dramma silenzioso, quello di molti padri confinati sempre più spesso in uno stato di indigenza a cui si somma il dolore per l'allontanamento dai figli. Se il figlio viene affidato alla madre e alla madre quindi viene assegnata la casa coniugale o comunque la casa familiare, ciò significa esigenza di uscire da quella casa, di continuare a contribuire chiaramente alle esigenze quantomeno del figlio ma di doversi pagare anche un affitto e di doversi pagare poi tutto ciò che diciamo reperire una casa significa, quindi le bollette. Complice il lockdown, secondo l'Associazione Nazionale Divorsisti Italiani nei primi mesi del 2021 c'è stato un aumento delle separazioni rispetto al 2020 di quasi il 60%. Sempre secondo questi dati che noi abbiamo a disposizione il 40% di quelle separazioni sarebbe dovuto ad una situazione di deflagrazione emotiva della famiglia dovuta alla convivenza forzata motivata dalla cosiddetta infedeltà reale o virtuale che fosse. Un altro 30% invece si interseca con un dato che è molto allarmante che è quello delle violenze in famiglia. Un altro 30% per cause diverse. Numeri che richiedono inevitabilmente riflessioni importanti. C'è anche da segnalare che i giudici e la giurisprudenza in questo senso sta acquisendo una maggiore consapevolezza che al pari con l'emancipazione e anche con l'autonomia crescente che giustamente per fortuna c'è nell'ambito della madre e a relazioni sempre più paritarie dei figli con entrambi i genitori si sta andando, guardando le varie pronunce, ad una sorta di riequilibrio della situazione, di riequilibrio delle tendenze. Insomma, una vera e propria emergenza sociale che la pandemia ha reso ancora più impellente. Immaginiamoci, voglio dire, tutto ciò che non era l'universo del lavoro dipendente con la pandemia ha avuto una grossa criticità anche di gestione delle dinamiche. Dunque tutti quei padri che in aggiunta alle problematiche conseguenti alla pandemia, alle problematiche economiche aggiungono anche problematiche separative, sicuramente ecco perché parlavo di Caritas. Perché mentre prima era un fenomeno, era grande città, questo oggi è diventato un fenomeno invece che può interessare. anche centri molto molto più piccoli.